Il Popolo è il settimanale della Diocesi di Tortona, un territorio molto vasto sospeso fra Piemonte, Lombardia e Liguria. Sul Popolo puoi trovare i fatti della settimana, la vita della Chiesa e della Diocesi, le notizie e gli eventi dei nostri territori, i luoghi, la storia, l'identità della nostra gente. Da oltre 120 anni questo è Il Popolo e da oggi puoi seguirci anche sul nostro sito internet e sui social network. Il Popolo, un giornale Pop!